Buonasera, benvenuti sul canale di Visector, scusate il mio poco entusiasmo ma non ho altro modo per farvi rendere conto di quanto io sia stanco di questa mod perché trattasi di una mod che a quanto pare è un gioco completo, sta durando un'infinità, è ripetitiva da fare schifo, è difficile, è labirintica oltremodo e diciamo che l'entusiasmo iniziale che avevo per la questione vichinga bla 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 di cui io sono particolarmente interessato è praticamente nulla diciamo che l'entusiasmo si è morto come potete vedere dalla mia faccia, potete magari venirmi a tirare su di Monale Monale? Vabbè, Morale hai link in descrizione se vi va, trovate, se vi va, se vi va o potete suggerirmi magari qualche mod più decente di questa per carità non è male, però mi sto rendendo conto che in live pesantuccio vabbè diciamo che vado avanti per la mia brama di completezza è una cosa che mi ha sempre contraddistinto nella mia carriera da gamer, non pro gamer, gamer e basta intro epica come la va signor bellbuster, finito gli studi? era un... allora, lord game, eh lord game questo allora, si, avevamo raggiunto questo nuovo livello ecco, la visione dell'ascia mi ha un po' rincuorato, sincero ora meritato riposo eh, vabbè, ci stanno le vaganze di Natale a riposarsi no i ninguished no 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 e si dice dalle mie parti io ho ospiti a casa che diciamo sono scesi vale che lo sai no? che ho mio fratello dalla Francia con il figlio letto e mia cognata e la suocera sto streamando un po' orari diciamo non canonici nel mio canale e non sempre posso rispettarlo stasera diciamo iniziare adesso posso tranquillamente finire alle 11 perchè sono scesi e a parte la cena che farò comunque da solo non avrò altra altra interruzione quindi stasera si procede spediti si streama tranquillamente questo è chiuso si ma è sta musica da chiesa che è? ho la chiave rossa così si apre no? ciao Coltenes buonasera rotto non rompe il cacchio non rompe il cacchio il cazzo è svegliato, eh? no, mazzi, mi si scuola a me sono diventato esperto, diciamo eccolo, c'è anche shield totto... maronna, tutti i dottori stanno entrando guardano, 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 guardano voi che state a fare, ragazzi? avete qualche programma per Natale? non ne so Fiamo una salvatina, ah! C'è una chiavetta! Oh! 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 Biddu Stream Natale da solo in Inghilterra Il massimo proprio Ciao Biddu ma sei nuovo? Natale da solo in Inghilterra Wow che tristezza Se non fossi già triste di mio Sarei triste anche per te Cioè sono triste anche per te Però diciamo che Non la sento del tutto Perché sono già triste io Siamo tristi insieme va bene Mi hai amico su Steam Vabbè ma su Steam saremo anche amici Però non ti ho mai visto qui Ti chiesti di fare quei Ah ok ho capito Ho capito ho capito ho capito ho capito E' da un po' comunque E' dall'ora che non abbiamo più giocato a Quake Le hai viste tutti gli aggiornamenti? Allora dove erano le Ah no Di qua Ogni volta che chiudi eh Fatti Twitch Prime Guarda puoi fare una cosa Bellbuster Allora Se hai Amazon Prime Puoi farti Twitch Prime Oppure purtroppo per eliminarla Credo che l'unico L'unico altro modo sia Quello di abbonarti al canale Oppure non lo so ma potresti provare Utilizzare Adblock Che è una estensione per Ehm Per Chrome E vedere se funziona Ma questa è un Questa è la cattiva di Cenerentola Shield mi ha chiesto qualcosa Quindi questa è la famosa Sì sì Shield sì Diciamo che si è persa un po' La 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 parte vichinga Aia Ancora che non muore Non c'hai Amazon Prime Ehm Mi dispiace Allora Trovo con altri Ah Tu stai dal cellulare Ma Dal cellulare Che sicuro è costretto Allora Se non sbaglio Prima sono venuto da Ehm Qui No allora Questo è l'inizio Ehm Di quasi Ok sì Di qua Di qua No allora Ehm Dobbiamo trovare la strada Allora Di qua Dobbiamo trovare la strada Se non sbaglio Qua No Qua si sale C'è proprio Che qua sotto C'era Stavo cercando questa Per caricarmi un po' La vita Perché Se no Andiamo sempre avanti A stentoni Sì ma Da sta musica E tra l'altro Non ci appizza nulla Non capisco Perché hanno messo Sta roba Da chiesa Che non c'entra nulla Con la Questione Kingo Celtica Si è uscito Anche per PS4 Cosa dico Che io Giochi come PUBG Li consiglio sempre Su PC Però ragazzi Devo essere sincero Capisco magari Uno non ha il PC Non può Quindi Diciamo Spendere soldi Per farsi un PC E giocare a PUBG Però non so Se tu Ce l'abbia Non me lo ricordo Bell Buster Ma Potresti Se avessi La Xbox Comprarlo lì Perché forse Dai rumors Si rumoreggia Che Ci sarà Il class platforming Tra Xbox E Steam Quindi in teoria Potremmo giocare insieme Mamma mia Non l'ho salvata Proprio È solo la PS4 Non so fino a quanto ti conviene L'alco con le frecce è una delle Delle armi che mi piace di più Questa è un bel strano Te vado Si Ok Questa 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 Ah questa è la parte quella lì interna che si arriva da fuori Fatta cosa su PS4 PUBG? Oh che cazzo? Mi blocca... Bunt! 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 Fai! Bunt! 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 Cacci loro! Chi è che si parla ancora? Qui fuori solo per prendere la chiave d'oro, adesso vedo. Va a vedere su Amazon, perchè lo trovi scondato, ma anche su Instant Gaming ti consiglio, perchè Instant Gaming pure vende i giochi per PS4 mi sembra. C'è un bel salvataggio, perchè se lo facciamo lo di nuovo, come un manazzo. Ok, visto? Ok. 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 Possiamo andare. Vivi, ma è vera la voce che Doom Eternal era pure su Steam prima o poi? Non lo so, mi lo stai dicendo tu adesso. Ok. 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 Ost administered tra�� spiritually le fitte a fare l'ho scuola! Non tiene l nooitje Sk 만�erta. Qua, non sempre meglio. Ok. Spre el человек danno da quello che va avanti. no Euronix 21, Amazon 24, Nvidia 29, PlayStation Market Red Vabbè allora ti conviene da Euronix Prova vedi pure sui Stunt Gaming Dove l'hai letta tu sta buona notizia Sheldon? Oh! Oh! Instant Gaming C'è il... Trovi il banner in basso Cliccaci e cerca lì se c'è PUBG per... Per PS4 Per PS4 Oh! Ah! Oh! A una mappa dell'aria ho trovato sto l'Xbox 1189 è pochissimo vabbè allora prenditelo da Euronix e amen io guarda non si, sto dicendo si per chiacchi mie mi esce questo articolo che dice Doom Eternal Rage 2 potrebbe arrivare su sim l'ha dato 13 agosto speriamo io lo spero vivamente perchè mi hanno rotto il cazzo questa cosa che si devono fare l'esclusiva bla 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 no 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 Bene, eh. oi No, no, no Eh Io comunque penso che un po' di ritardo Ce l'avrà Sono stupidi Comunque li di Bethesda Però ovviamente che per quando Uscirà si renderanno conto che Hanno già fatto una cazzata Con Fallout E che non la debbano ripetere più Con Doom Anche perché comunque se ci pensi Doom ha anche Ce l'ha il multiplayer Quindi dovresti Pensarci seriamente Altrimenti Cioè morirà sul nascere Pure quello lì Non è bella come cosa La chiave rossa Si è l'inizio Non credo che lascia morire Doom Eh Doom 4 è morto Cioè Doom 4 l'hanno lasciato Allegramente morire Quindi Come stanno facendo morire Anche i Quick Champions Per carità Ha appena avuto Appena avuto il suo aggiornamento Però Il gioco ormai è quasi mezzo morto Il gioco ormai èava Ci sono Si Non può essere Sì, 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 sì. 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 No, ma un giga di ramma non ce la fai, te lo dico, proprio a malincuore, guarda, ma non ce la fai, mi dispiace davvero. Puoi fare tutto quello che vuoi, non ce la fai. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Peace. Grazie a tutti. 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 No... Oh... 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 Oddio... Ma sei folle... E... Non ha fatto... Ragazzi... Voi dire... E... Sono... Arrivare... direttamente a casa... Però... dai... qualcosa... che... continuiamo... No... 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 Ma... 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 Mi... 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 mamma mia ragazzi ma è l'area di natale o sbaglio o sta esplodendo l'amore in live attenzione esplode l'amore però è vero io mio mi aggrego a quello che ha detto palp ma sai che faccio io me ne vado proprio attaccati al dios allora la chiave gialla no qua è blu la chiave gialla qua però qua è aperto quindi su qualche gioco raga controllate se bullet storm mi pare perchè io l'ho giocato in coppia bullet storm quindi dovrebbe essere in coppia se è coppia raga pigliatevelo perchè costa veramente poco si si anche sniper elite v2 è coppia potremmo giocarlo insieme infatti anzi no potremmo sicuramente lo giocheremo eh quanta gente qua mi esplode l'amore mi esplode l'amore non vedo una mazza insieme vedo una mazza insieme che appresenta anche a garo e blu Quindi ce lo facciamo Copp sheld Assolutamente io Vado a mangiare la vizio Io me la mangio domani sera Metà però raga perché Sono diciamo costretto A mangiarla E io non la volevo mangiare in ste feste Per motivi che già sapete Però La sua voce è di mio fratello Vole offrircela e non posso negargliela E Asp la chiave è blu No 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 Allora dove è quella stanza Buon appetito comunque Raff Buon appetito I bagni turchi avevano i celtici Non so se questa cosa sia E ho frena E ho frena Oddio raga ma qua è zona samurai, quello è un samurai o sbaglio? Un samurai o sbaglio? Il DLC a tema vikingo? Ma quella la l'hanno messo in parecchi bundle se non sbaglio, ah qua sta la che rosso, ok, noi ce la vediamo così, alla sciazza vostra, facciamola vedere, in teoria probabilmente andava presa così, eh? Oh, oh. 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 Non ho idea di cosa cavolo stia succedendo, però io me ne sbatto la minchia e me ne vado, addios. Ma cacchio, non si apre. Tidofano! Io non lo sai che ce l'ho, Monte Blade. Quello pure... Non lo sai che ce l'ho, Monte Blade. Non è successo niente, non l'avete visto niente. Ciao, Bell Buster, grazie per la compagnia e buonanotte. Buonasera. Vivi anche almeno, mi riprendi il mio... Sì, raga, mi ha rotto il cazzo, cacca puttana, mi sono rotto i coglioni. Dove sta la porta che si esce? C'è? E' facile. Non. C'è... hm hm un salto clipa mi di che ti no lo scabe non è spesso No dai, non gli far bloccare il PC, ho utilizzato il No Blitz, perché mi sono rotto le balle. Non, ma quando stavo? Come minchia stava quella stanza con tutti i pulsanti? Ecco No Oh ma non trovo più la stanza Peccato Oh non trovo Guarda il gioco me la sta facendo pagare allo stesso Perché non trovo la stanza Mi devo mettere tutte le straminchia di chiavi Ah Oh niente non la trovo raga Andiamo di qua L'unica zona che non ho visto No Madonna raga non la trovo Sto uscendo pazzo Sto per riutilizzare il noclip Oh 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 Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Via! Perché mi ha fatto uscire? Entrare senza armi? Ah, perché c'è il bossettone. Vai! Bossone, raga. No, 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 no. Ah ma è difficile Il viking demon Eh sembra una sorta di Ora non ho capito perché mi ha levato tutti i cacchio Mi ha levato tutte le armi Non l'ho capita sta cosa Non l'ho capito Ho liberato tutti i nemici Ha un aspetto onorreno Comunque è sta cosa Ultimamente sembra il Jotur Ah quando vuole morire Quello che ci hanno fatto quelle mutante L'altro viking Oddio Gli occhi sono le sue palle Alla prossima Oh! sono morti tutti in effetti escono dalla zona pubblica le palle ragazzo ma che che mamma mia tanto che leggete uh c'è anche la scenetta no c'è solo un'immagine vabbè raga la prossima volta ci cominciamo otherworld eeeh e niente per ora chiudo chiudo questa liveetta cioè chiudo questo gameplay ma non la live ringrazio ancora shield dicevo eeeh 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 eeeh